Come comunicato dal manager Guy Oseri, le condizioni di salute di Madonna, ricoverata in ospedale a causa di una grave infezione batterica, sarebbero stabili e la 64enne popstar statunitense dovrebbe riprendersi completamente. Ciò detto, la situazione si era fatta molto complicata tanto che la famiglia ha temuto per il peggio. Un parente parlando con il Daily Mail ha rivelato che le condizioni di Madonna erano così gravi che tutti loro hanno creduto di poterla perdere. Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva davvero come sarebbe andata a finire e la famiglia si stava preparando al peggio. Per questo il tutto è stato tenuto segreto da sabato. Tutti credevamo che avremmo potuto perderla. Questa era la realtà della situazione. È stato spiegato inoltre che si è ritenuto necessario posticipare i prossimi concerti poiché erano certi che Madonna avrebbe fatto di tutto per tenere fede agli impegni presi con il proprio pubblico. Tutti i membri della famiglia di Madonna si sono riuniti. Ciò è servito a ricordare alla cantante che aveva bisogno di prendersi cura di se stessa. Questo l'ha davvero svegliata. Lei non ha vissuto una vita così sana come dovrebbe essere per la sua età e negli ultimi due mesi si è esaurita. Pensa di essere ancora giovane quando, in realtà, non lo è. Crede anche di essere invincibile. Ogni cosa, compreso questo tour, ora è passato in secondo piano e a nessuno è permesso nemmeno menzionare qualsiasi cosa legata al lavoro. Lei metterà la sua carriera e la sua fama davanti alla sua salute fino al giorno in cui morirà. Secondo quanto viene riportato dal Daily Mail, prima di essere ricoverata in ospedale, Madonna aveva lavorato 24 ore su 24, fino allo sfinimento, per assicurarsi che ogni dettaglio riguardante il tour fosse perfetto, e giungeva inoltre da un tour de force di prove da sei giorni alla settimana insieme ai suoi collaboratori. Non dimenticate di visitare il nostro canale per notizie importanti, gossip ed aggiornamenti. Seguirci e lasciare un like al video non vi costerà nulla, ve ne siamo grati. Alla prossima!